Ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati nella serie del troll Quest'oggi siamo all'inizio di una nuova, di una nuova epoca praticamente Perché abbiamo tra le mani un nuovo troll, un nuovo tipo di troll E lo potete riconoscere già dal fatto che non sono Tiffany e non sono il Sergente Cortez né Lion Sono Chinish il torturatore sadico Perché come qualcuno di voi ha suggerito nei commenti in uno dei troll passati Dove devo avviarmi a fare un troll in stile sou l'enigmista Avete presente no ragazzi quel bastardo che prendeva una persona La metteva chiusa in una stanza e le faceva fare delle prove orribili Che se lei avesse fallito le sarebbe morta la famiglia Benissimo ho intenzione di fare qualcosa su questo tipo E ho già trovato ragazzi la nostra preda La nostra vittima che è meritevole di tutta la nostra cattiveria E ho anche trovato questa bellissima skin di Chinish il torturatore sadico Quindi ragazzi mi raccomando per questo nuovo genere di troll Ricordate di lasciare un sacco, proprio tanti pollici in su Mi raccomando cliccatelo adesso perché il vostro sostegno è come al solito fondamentale E necessario per darmi l'energia di fare sempre nuovi troll Quindi pollice in su lasciate scritto nei commenti se avete dei suggerimenti per nuovi troll E ditemi se vi piace questo genere che tra poco vedrete Vedete quella casa lì in lontananza? Quella è la casa di una persona che si chiama G.G.Volt G.Volt G.Volt Dovrebbe chiamarsi Perché ce l'ho con lui? Ve lo farò vedere tra un attimo Intanto assicuriamoci di essere invisibili Perché ho intenzione di farvi vedere Che cosa combina questa persona Andiamoci Eccolo qua Questo è lui Questo qua Lo vedete con questa skin verde? Bene ragazzi Ora vi lascio anche a voi L'idea Che cosa può fare questo qua? Pensateci Andate un po' Date un po' adito alla vostra immaginazione Che cosa potrebbe fare? Considerate che io lo sto seguendo E se io lo sto seguendo ci sarà un motivo No ragazzi? Vediamo un po' che cosa fa Perché io Io lo so che cosa sta facendo E Eccolo là Oh Ha trovato dei diamanti Ha trovato dei diamanti Ma A me Personalmente Che uno vada A colpo sicuro Da lì A qui Mi sembra un po' strano Ora io ho iniziato a seguirlo adesso Però Sapevo che lui stava scavando da prima E ovviamente sapevo anche Che questo ragazzo Usa Tutta una varietà di hack Ora Ha anche l'X-Ray Ma non solo ragazzi Questo qua usa Proprio tanti hack E ora sta risalendo a casa Quindi io direi Lo precediamo a casa sua In modo da arrivare prima di lui E il potergli Combinare qualcosa di carino Allora ragazzi Mi sarebbe piaciuto Potervi dimostrare di più Che questo qua usa hack Però Non ho potuto Perché ha deciso Di risalire subito a casa Siamo riusciti a precederlo Proprio sul Tra l'altro Non si è accorto manco Che gli ho lasciato La porta di casa aperta Vabbè Non fa nulla Noi ora ci mettiamo Alle sue spalle E 3 2 1 Boom Si è spaventato Eh Ciao Ciao Ho intenzione ragazzi Di fare praticamente Come se io fossi Una specie di diavolazzo Che lo vuole Lo vuole praticamente Sacrificare Perché lui ha delle colpe Quindi noi ora Dobbiamo fare la parte Proprio dell'enigmista No? Se avete visto il film So Più o meno Dobbiamo comportarci In quella maniera Lui usa hack Lui usa l'X-Rail Ce l'ha dimostrato Due secondi fa E anche prima Perché ragazzi Io non ve l'ho fatto vedere Ma lui ovviamente Lo stava usando da prima Però Io ho iniziato a registrare Adesso Fortunatamente Sono riuscito a farvi vedere Un attimo Che lo stava ancora usando Prima di risalire a casa Quindi abbiamo proprio La prova in video Che lui è un hackerone Di merda E quindi Lo puniremo Mi chiede Come dia Coem dia Cavolo Sei entrato Non ti preoccupare Di questo Preoccupati Del tuo destino Invece Iniziamo a fargli Pregustare Quello che sta Per succedere Perché non muori Io Non posso Morire Sto parlando Sto parlando Tipo come se fossi Avete presente No Una creatura Eh Bro Demoniaca Io sono Sono cinish Il torturatore Demoniaco Sadico Madonna Più aggettivi Come il sergente Cortez Che è villoso Questo è demoniaco Questo è demoniaco Ho fatto un rutto Che cavolo Stai dicendo Eh Adesso Tu Scoprirai Oh ragazzi Guardate in chat C'è uno che ha cercato D'entrar Con l'account Di Anna Spina Lion VGF Ma io sono qui Come faccio ad essere Che sono entrato Joined Ma va caga Meno male ci sono le password Ragazzi Meno male Eh Allora Dove stiamo Adesso tu scoprirai La vendetta di cinish Ok Eh Ho scoperto Che tu Fai No Aspetta Aspetta Che tu Hai Infranto Il codice Della Legge Celeste Mi sto inventando Una maniera di cagate Ragazzi Voi non vi preoccupate Lui ci crede Cosa vuoi Coas vuoi da me Eh Adesso Preparati Perché Stai per partire Per un viaggio Senza ritorno Spero che capisca Quello che sto dicendo Perché da come parla Non mi da tanta fiducia Però Ora Facciamo Facciamo il classico mezzo Per Per incutere timore Questo Aspetta Aspetta Ho sbagliato Comando Perché sono Un cazzo Spawn Mob Bat 50 Eh Vai via Madonna Io non mi muovo Da qui Oh Oh Invece Sì che ti muovi Tu ora mi seguirai Che ti piaccia Oh no Vai via O chiamo Admi Ma va a cagare Te chiamo Admi Ora Preparati Stai per partire Ora noi andiamo Alla prima delle prove Che lui dovrà fare La prima delle prove Che lui dovrà fare Sono tornato invisibile Tra l'altro La prima delle prove Che lui dovrà fare Sarà un labirinto Quindi andiamo Al labirinto Ma non è un labirinto Normale È un labirinto Molto Molto Particolare Infatti Noi ora Ce lo mandiamo E lui Naturalmente Non può Uscire Aspettate che Sbaglio il nome Come al solito Eccolo là Ok lui da qua Non può uscire Non può fare Spawn Non può Warparsi Non può Morire Non può fare Nulla No morire Può morire Però noi ci occuperemo Del fatto che lui Non muoia Lui È in questa zona Ed è chiuso Qui dentro Non può Uscire In nessun modo L'unico modo Che ha per uscire È arrivare Fino alla fine Del labirinto Inizia Il tuo viaggio Mortale Non potrai Uscire Se non Completi Il labirinto Della morte Nera Eh Madonna Il labirinto Della morte Qualcosa di incredibile Beh Muoviti però Devi far Devi salire La scala Porca Devi salire La scala Idiota Ma dove sono Eh vabbè Inizia a salire La scala Tu Muoviti Che hai un labirinto Enorme davanti a te Ma proprio gigante Oddio non è così grande In realtà Però sono sicuro Che il deficiente Ci metterà un po' Ad attraversarlo tutto Noi ragazzi Ora lo guardiamo Un po' dall'alto Magari di tanto In tanto Gli facciamo spawnare Anche qualcosa Sotto il culo E vediamo un po' Come se la cava Il nostro sfigato Del giorno A superare Le nostre prove Ragazzi Vi inizio a dire Che ci saranno Tre prove La prima è questa Poi ce ne sarà Una seconda E infine ci sarà La prova finale Che ragazzi Sarà la più tremenda Perché lo metterà A confronto Con la sua Proprio la sua Anima Da citer Hacker infame E lui dovrà scegliere O perire Oppure Rinunciare Alla sua Anima di Arraffone E sarà per lui Molto molto Difficile Ora Visto che lui Sta avendo Già difficoltà No Io direi Perché noi Noi gli facciamo Spawnare qualche Zombino No Qualche zombino Che va in giro Insieme a lui Ne Lì nel Nel labirinto No ci starebbe Secondo me No Qualche zombino Oh Lo hanno trovato Lo ha No È già morto Ma che Che tristezza Che tristezza Che tristezza Sei Un povero Mortale Mortale Buono A nulla Hai una Seconda Possibilità Schifoso Madonna Puzzi Torna qua No Cosa no Sì Si cozzo No Sì E di corsa Lo metto qua Lo metto Dove non ci sono Dove non ci sono Mostri Dove sta Eccolo Anzi no TP IR G Volt Vai Continua Non ci vengo più lì Ma forse Lasciami in pa Non hai capito La tua Volontà Non conta Tanto sta morendo Di nuovo Ma dai Difenditi No Porca puttana Sei uno scarsone Aiutiamolo Aiutiamo Se no questo qua Mamma mia Fa schifo proprio Fa Ma che cavolo Sei te Ma che cazzo È un cavolo Comunque Io sono il cavaliere Della morte Ispida Del pelo Oscuro Del cortez Madonna ragazzi Come suona bene Questo titolo Eh Hashtag Cavaliere della morte Nera Dello scuro Pelo Del cortez Ci rimani un po' Senza fiato Quando lo dici Però suona bene Dove cazzo è Tra l'altro L'ho perso di vista Ah eccolo Oh è arrivato È arrivato all'uscita Te sei un hacker Te lo dico Ah c'è Hacker Hacker Te lo Lo dico Io Tu sei il hacker No io Ma schifoso Però è arrivato È arrivato all'uscita Oh grande Ce l'ha fatta Ci ha messo mezz'ora Però ce l'ha fatta C'è da premiare la costanza Se non altro Fammi usci Sono alla fine Ok Ora ti farò uscire Ma Ma Dovrai affrontare Altre due prove Ma ha detto stronzo Fammi usci stronzo Oh Ah è così Ah È così eh Guarda come sono Pezzi di merda Questo Untiso Che ti insultano pure Oltre che lui è hacker Ti insulta pure Va bene Allora Adesso ti sistemo io Allora Sai una cosa Mi sono dimenticato Di dirti una cosa Hai presente Casa tua No Proprio quella Dove eri prima Eh Casa tua Dove tieni Tutti i tuoi averi Eh Le tue cose Che hai fatto Alla mia casa Per ora Per ora Niente Ma Se non riuscirai A completare Le mie sfide Casa tua Verrà ridotta Ad un cumulo Di cenere L'ho riempita Di esplosivo Ed è pronta A saltare Per aria Eh suona minacciosa Come questione Che stai a dio Quello Quello che ho detto Tu Ricordati le mie parole Infame di un G-Volt Hacker lurido E sudicio Casa tua Casa tua Può esplodere Se io lo voglio Quindi Datti Le faccio tutte le prove Ma non mi rompe casa Datti da fare allora Datti da fare Ciao